Ciao ragazzi, sono una ragazza del primo polo copertino, Gensiero Strepella a copertino, seconda media. Oggi vi leggerò Il leone e la strega dell'armadio, Le croniche di Narnia, uno dei libri miei preferiti. Mentre i due ragazzi chiacchieravano sotto voce, Susan e Lucy erano andati un po' avanti. Improvvisamente si fermarono con un lungo oh di meraviglia e di sapunto. Poi Lucy disse, è volato via, non c'è più dire così. Infatti il petti rosso era scomparso. E adesso cosa facciamo, chiese Edmund, gettando Peter un'occhiata speciale, come per dirgli, te l'avevo detto io. Ssss, guardate là, bisbigliò Susan. Cosa c'è? domandò Peter. Qualcosa si muove tra gli alberi, laggiù a sinistra. Tutti guardarono da quella parte, agguzzando gli occhi, ma non riuscivano a vedere nulla. Eccolo di nuovo, disse infine Susan. Stavolta l'ho visto anch'io, aggiunse Peter. E ancora là, dietro quel grosso albero. Stavolta l'ho visto.